Musica Salve a tutti amici, sono Mr. Delric, ben ritrovati qui sul mio canale e ben ritrovati su un nuovo episodio di Planet Base Dunque ragazzi, devo dirvi questo Ho deciso di ricaricare una partita precedente e di ripartire a livello temporale un po' prima Perché giocando a questo gioco ho imparato un pochino gli errori che stavo facendo Oltre ai vostri consigli, grazie che mi avete supportato e aiutato così tanto Ho capito un attimino gli errori che stavo facendo e infatti non ne stavo più uscendo con la partita che stavamo giocando Allora, io ho ricostruito tutto esattamente come avevo costruito precedentemente Solo che ho fatto delle modifiche che adesso vi mostrerò Allora, al di là delle modifiche a livello di energia, come vedete l'acqua è la stessa cosa, eccetera Ho modificato la tipologia di piante che adesso sto coltivando Oltre al fatto che ho una quantità di biologi in più Cioè ho fatto in modo di costruire quanto prima possibile l'ending pad E adesso, appena riesco a capire dove cazzo devo andare Ecco, ho 7 lavoratori e 7 biologi Con questi 7 biologi riuscirò a gestire un pochino tutto Ho preso una discreta varietà di piante Nel senso che ci sono piante Ecco, che cazzo abbiamo qua Oh, arrivano dei nuovi coloni Ho messo 50 e 50 Ecco, un lavoratore e un biologo Molto bene Visto che adesso al cibo riesco a starci dietro Anzi, addirittura ne riesco a stoccare Però vorrei, anzi, velocizzare un altro poco in realtà la produzione di cibo No, scusatemi Qui c'è ancora spazio Allora, fondamentalmente succede questo Come categorie che voi mi avete spiegato qua di piante Queste sono piante che producono due di cibo e uno di amido Per fare la bioplastica Più andiamo sulle verdure, diciamo, sulla sinistra Più fondamentalmente produrranno velocemente Però hanno bisogno di più mantenimento Quindi c'è bisogno di un biologo che ci vada lì spesso Viceversa, se invece vado sulle piante sulla destra Hanno bisogno di molto meno mantenimento Però sono molto più lenti a produrre Allora, che cosa voglio fare adesso? Siccome ci serve molto più cibo Io starei praticamente un pochino nel mezzo Adesso, per esempio, magari con delle cipolle Che non sono neanche sicuro Sì, ne ho messe qua di cipolle, sì Potrei mettere anche della lattuga Ma anche la lattuga qui l'ho messa Che cazzo è che non ho messo? Forse i rovanelli? I rovanelli qua, i cosi? Minchia, sto già riempiendo tutto Lo mettiamo anche qua dei rovanelli Perché più cibo abbiamo e meglio è Abbiamo diverse piante adesso che ci producono Diciamo l'amido per la bioplastica Infatti la bioplastica ne abbiamo da parte Adesso però cominciamo a essere un po' scarsettini di energia Nel senso che nonostante i due solari Nonostante le due turbine che voi mi avete suggerito Insomma, le due turbine non essere la cosa migliore del mondo Probabilmente io avrei bisogno di un power collector molto più grande Cosa che penso allora potrei costruire a breve Però prima di dedicarci a questo Innanzitutto vediamo che ho Attivo e sto costruendo di conseguenza i pezzi di ricambio Quindi diciamo che tutto funziona Adesso io vorrei mettere in costruzione Se Dio vuole Due cosette Allora, per prima cosa il laboratorio Che potrei mettere qua Visto che abbiamo un ramo morto Perché dall'infermeria non si può mettere un cazzo Quindi potrei metterlo Qui Il laboratorio ci permetterà di costruire dei farmaci Dalle piante medicali Che sono fondamentalmente queste Che dovrei averne solo una Tra l'altro temo E quindi non è che abbia una grossa produzione Dovrei Dovrei Costruirne Farne poi un'altra Anzi Credo di non averne nemmeno Sapete No, è questa forse No, ma sì Che cazzo dico Non è Non è una pianta Eccola qua Questa qua Deve essere la pianta medicale Sì, esatto Che non produce In quantità enorme Però devo dire che fino adesso Non ho avute grosse disgrazie A livello di infortuni Quindi ho bisogno decisamente di questo E vediamo un attimo No, il cibo La produzione di cibo Come possiamo vedere È ottima Vorrei poi in futuro Aumentare ulteriormente Quella La produzione anche di amido In realtà Vedete come Va giù adesso L'energia Bisogna che io faccia Uno di questi E magari Che lo faccia Anche grande Allora Il power collector Da due Da quattro Visto che il metallo Non ci manca Ale, è una bella Tempesta di sabbia Ecco l'altra cosa Che dovremmo costruire Ragazzi Beh, lo possiamo unire A questo Sì L'altra cosa Che dobbiamo costruire È proprio Diciamo La struttura Eccola qua Di controllo Però Aspetterò Un secondo Che prima Mi costruiscano Tutto il resto Con il laboratorio Tra l'altro Oltre a dover fare Le medicine Credo Che i biologi Possano mettersi A lavorare qui Per Lavorare E sintetizzare Fare la carne sintetica Tra l'altro Aspetta A livello di landing pad Adesso Io vorrei Aumentare Solo L'arrivo di biologi Poi Quando Avremo Abbastanza cose Che costruiamo Rientra Faccia di merda Dove vai Sei l'unico ingegnere Che ho Cazzo Poi tra l'altro Allora Per risparmiare Un attimo Di energia Potremmo Un attimo Sospendere Questo Che tanto Per il momento Vedo che Non ce n'è necessità Si invece Ce n'è necessità E quindi Lo riattiviamo Per tu Solo per te Lo riapro Faccina pelosa Dove cazzo vai Tu stai andando A costruire Sicuramente Ma Guardali Guardali Come avanzano Stoici In mezzo Alla bufera Ok Il laboratorio È stato Costruito Mamma mia Basta Basta Quanto deve Durare Che palle Poi voglio Costruire Anche Il laboratorio Dei robottini Ok Si sta Riempiendo Di ossigeno Per il momento L'ossigeno Regge bene Dunque Vediamo Cosa possiamo Costruire Quindi possiamo Costruire Il workbench Per fare Il medical Supplies E Clacca E io Farei Anche Questa Cosa Per fare La carne Poi devo Capire Anche Che cazzo C'è bisogno Per farla Staccarne Ok Tutto a posto Quando c'è bisogno Di A livello Medico Quindi bisogna Riattivare Decisamente Questo Però Siamo Operativi Per poter Costruire Anche Quello Se Se Qua L'ingegnere Si Decidesse Mi Venisse A Riparare Mi Venisse A Riparare Questo Coso Ok Si Sdrai Ah no E' sdraiato Sembrava in piedi Sto stronzo Perfetto Abbiamo costruito Mamma mia Guardate ragazzi Quanto Cioè adesso Avremo Avremo Un surplus Di cibo Questa cosa Mi Commuove Molto E' Sempre la produzione Probabilmente Di Ma che giri Fanno Ma perché fai Questo giro Cazzo Potevi entrare Di qua Vedete Io ho fatto Un ingresso Un airlock Sia di qua Che di qua Per dire In modo tale Che se devono costruire Strutture di qua Mi escono di qua Invece mi fanno I giri A cazzo Proprio così C'è un'intelligenza Artificiale Veramente Strana Tu non sei Molto felice Ma potresti Chi sei Oh trading Vediamo Di tradare Ma a parte Il fatto Che non è Che ho molto Da commerciarti Cos'hai Da propormi Abbiamo Un sacco Di cibo Per cui potremmo Addirittura Vendere del cibo Cazzo Me lo valutano Così poco E' una delle cose Più fighe Del mondo Beh sai che cosa ti prendo Ti potrei prendere Per esempio Del Qualcosa qua Di alcolico Ma i pasti Verdure Cosa di questo tipo No perché fra un po' Li produrrò io Quindi io ti prenderei Un po' Di questo E Qualche soldino Che comunque C'è sempre utile Per Fare il trade E facciamo questa cosa Ok Ce ne mette di tempo Qua per ricaricarsi Il tutto Però Sto pensando Di dover Cioè devo proprio Aumentare La La produzione Qui di 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 energia Mamma mia Ragazzi Però adesso La produzione Di cibo E' interessante Molto interessante Questa cosa Mi piace Però Ho un ingegnere Che a quanto pare Se ne batte La ciolla Di quello Che c'è Da dover fare Ho anche Sbloccato Un achievement Space farmer Eh Probabilmente Perché ho Una quantità Di cibo Impossibile Puoi alzarti Quando vuoi Sai tu Perché Ero un po' Rotto il cazzo Di così Vai a lavorare Coglione Ok Velocizziamo Un po' Le tempistiche Perché finché L'ingegnere Sono tutti e due Robottini Che sono rotti Ma io I pezzi di ricambio Qua ce li ho Vorrei Vorrei anche Avvertirvi di questo Qui anche Mi basta Solo un lavoratore Ma mi serve L'ingegnere Allora Molto chiaro Il messaggio Che mi Avete Ok Ho costruito Questo Enorme Solo però Che adesso Non lo riuscirò A riempire mai No in realtà No Potrei cominciare Già a riempirlo Questo ne sono sicuro Ecco I drink Sono arrivati Anche i drink Che almeno Così la gente Si potrà Ubriacare Felicemente Qui Ho bisogno Allora Di far arrivare Dei biologi Ma a quanto pare È meglio Che far arrivare Anche Ingegneri Allora È il caso Di cominciare A far arrivare Degli ingegneri Facciamo così Guardate Un 80-20 Anche se non so Se serva Effettivamente Allora Di cosa c'è bisogno Di un cazzo C'è solo bisogno Di un biologo E qua ci sono Le I polli Probabilmente Ma guarda che bello Posso proprio variare È bellissimo È bellissima Questa cosa Mamma mia Che figata ragazzi Qua di cibo Adesso non avremo Più problemi di cibo Potremmo venderlo Probabilmente Questa cosa Mi rende Euforico Però abbiamo bisogno Decisamente Di altri biologi Allora Facciamo una cosa Di questo tipo Mettiamo un 50-50 Di modo tale Che mi arrivi Uno e uno Almeno due ingegneri Li voglio Qui invece Abbiamo bisogno Di pianta medica E bioplastica Per E un medico Che vabbè Tanto non sta facendo Un cazzo È medico Per fare I farmaci Ok Però Vi assicuro Che non ho Grossa urgenza Che questa cosa Venga fatta Lo si può Si può spegnere In caso Vabbè Non importa Per il momento La stanno facendo E se ne sono Sbattuti il cazzo Dov'è questo ingegnere Cosa sta facendo Perché se ne fotte Mamma mia Ragazzi Quanto cibo Potrò ospitare Una quantità Di coloni Incredibile Oh si Ce la facciamo Ragazzi Stiamo Stiamo riempiendo Direi che adesso A livello di energia Potremmo stare Abbastanza sereni No ma è già notte Per cui qua Adesso non si riempie Più un cazzo Però adesso Diciamo Eh dove avrei bisogno In realtà Sarebbe Qua Se Servono ingegneri Dimenticavo Servono ingegneri Posso chiedere Gentilmente Cosa cazzo Sta facendo Il medico E allora Il biologo Ha deciso di venire qui E va bene Ma il medico Cosa cazzo fa Oh ecco Ha deciso di dire Ma quasi quasi Sai che vengo qui Fermi Fermi Chi arriva Chi cazzo siete Un biologo Un biologo E basta Cioè mi hai preso Per il culo Fondamentalmente Ma vaffanculo Sei una merda Allora adesso Basta biologi Che ci hanno rotto Il cazzo Voglio solo Ingegneri Per cortesia Per cortesia Voglio ingegneri Voglio ingegneri Cazzo non dovrebbe essere un problema No Fossimo in Italia Ingegneri Ne è pieno il mondo In realtà Qua No Ne abbiamo solo uno E non ha voglia Di fare un cazzo Per di più Molto bene Vabbè niente Dobbiamo aspettare Che Ma Sì vabbè Qua stanno dormendo Allora io Per il momento Risparmiamo energia Questo ti metto Un attimo A riposo Avrei bisogno Di pezzi di ricambio Per cui Mettiamo In Priorità Elevata E avrei bisogno Anche probabilmente Di lavoratori Però In realtà Al momento Madonna Quanto sto producendo Che cazzo è Ma Avevo proprio Sbagliato qualche cosa Abbiamo L'energia Bassa Perché Non c'è Tempo Cioè Non c'è vento Scusatemi Non abbiamo avuto Abbastanza tempo Per accumularne Vacaboya E Allora Metallo qui ce n'è Vero? Un paio Solo un paio No Cosa? No No ragazzi No No Orca Troia Orca Troia Sono morti In tre Ragazzi Sono morti In tre Un cataclisma Questo Cazzo Cazzo Sono morti Biologi qua Eh Vedi che ne avevo bisogno Puttana miseria No Adesso non ci sto dietro a tutto Vacca Vacca puttana Questa non mi ci voleva Per niente Allora Senti Pausa Per te Porca merda Ragazzi Siamo nella cacca Stiamo finendo anche l'energia Tra l'altro Dai Riattivalo Porca Miseria Tre Ne sono morti Proprio lì Bon basta Io adesso ho bisogno di costruire Ho decisamente bisogno di costruire Questo Questo sistema qua Quello di protezione Il control center Però fammi vedere un'altra cosa Eh Vedi Ho bisogno Di Di qualcos'altro Probabilmente Alcune cose Non hanno proprio senso Di esistere Ma va bene Non importa Allora Facciamo questo Control center Eccolo qua Lo mettiamo qui Che cosa sei tu? Un 3 Maddo me ne fotte un cazzo Di Di commerciare Per la miseria Sono nella merda E sto ingegnere Del cazzo Che se ne sbatte I coglioni Dei robottini Cosa che mi servirebbero Da morire Invece Che cazzo è sta roba? Madonna cosa costa? Allora Mi serve Un po' Di questo Madonna cosa costa Anche sta roba È incredibile No ma allora Ma io Ho 4 Di queste cose Ho un bordello di cibo Però Posso venderti un po' di cibo? Ti venderò un po' di cibo E e e e e Che cazzo compro? Vedo che Praticamente Sono molto lento A produrre questa roba Niente Ti prendo solo soldi Ok Così la prossima volta Ti pagherò Principalmente in soldi Adesso avrò bisogno Veramente di biologi E E quant'altro Cosa succede qua? L'ossigeno Iniziamo a essere Un po' carenti Di ossigeno Eh bisogna che Allora adesso Costruiamo Immediatamente Un altro Cos Madonna se sto gioco È difficile Ragazzi Ma la finiamo Ma che cazzo Succede? Mi stanno bombardando Sti figli Di puttana Coglionaci Maledetti Ma vare a te Che roba Allora Io adesso Costruisco Un altro affare Per l'ossigeno Qui Questo Dove minchia Lo faccio passare Lo faccio passare qua E qua Perché così creiamo Un ponte di congiunzione Madonna Ma guarda Guarda Sembra che lo fanno apposta L'avevo appena riparato Io questo Eh Teste di cazzo Teste di cazzo A questo punto Un altro pannello solare Dove sono Dove sono Dove sono Eccoli qua Guarda 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 Non è possibile Allora Te lo faccio anche grande Perché così Non ci rompiamo i coglioni Per un po' Ecco qua Intanto c'è clienti Che fanno capolino Dalla porta Ma sono chiuso Ragazzi Ancora presto Ho ancora buoni Cinque minuti Prima di dover Aprire il negozio Per cui non scassatemi I coglioni Per favore Potrei diventare Molto cattivo E adesso Non ho Biologi sufficiente A sufficienza Cos'è sta cosa No no Dai Dovrei Dovrei riuscire a farcela Ragazzi Dovrei riuscire a farcela Ah dunque Qua iniziamo a costruire Dunque Eh tanto Alla fin fine Dovrò costruire bene o male Tutto Per cui Ci facciamo Questa console Ci facciamo Questa console Che sono secondo me Le più importanti Solo che Per lavorarci Avrò bisogno Decisamente Di nuovi coloni Sto pensando Di fare un altro Landing pad Eh Questo È una bella cosa Questa è una bella cosa Che cazzo Ho aspettato A farla Fino adesso Ecco qua Qua Così mi arrivano Anche i visitatori Che mi fanno entrare Mi fanno entrare Più cose Tra l'altro Vrebbero pagare Far soldi Cash Cash money Big money Ma Queste ne stanno Proprio sbattendo Il cazzo Di questo Macchinario Vero E beh È l'ingegnere Dimenticavo Eccolo qua Vero Sì è lui Se ne sta Battendo la Ma guardate Dove è caduto Un meteorite Guardate Ditemi se è possibile Che un meteorite Mi cada A questa distanza Cioè io Mi sto Mi stanno girando I testicoli Veramente tantissimo Vabbè Ripeto Sono In grandissima Abbondanza Di cibo E ho Comincio ad avere Pochi Pochi lavoratori Addirittura Rispetto Al cibo Adesso Speriamo Che costruendo Anche questo Nuovo Starport Arrivino Nuovi E più Coloni Oltre ai Visitatori Non ho Abbastanza Energia Non so Come riuscirò A A far fronte A Alle Prossime cose Vediamo Di finire Di costruire Vi prego Dopo devo Controllare Anche qua Chi cazzo Di lavoratori Ci vanno Perché Non ne ho La più pallida Idea Se poi Gentilmente Mi volete Mandare Anche qualcuno Tra biologi E Ingegneri Mi farebbe Un gran piacere Comunque ragazzi Io Oh Che bello È stata Fatta Questa cosa Chi ci deve Venire Un ingegnere Ovviamente Porca Merda Allora Visto che Fino adesso Io Ho Ho Vissuto Anche senza Di te Per il momento Ti tolgo L'elettricità Non ho Vissuto Molto bene A giudicare Perché qua Mi sono Beccato Un altro Un altro Meteorita Era già Rotto Questo Vabbè Comunque ragazzi Visto che Mi state Supportando tanto Continuate a farlo Ragazzi Perché Questo gioco Mi piace Veramente Tanto È Veramente Difficile Ma Continuate A darmi I vostri Suggerimenti Fatemi sapere Se la serie Così vi sta Piacendo Quindi Pollicini in su Mi raccomando Ragazzi Oh Una nave Scusate Aspettate Prima di concludere Il video Fatemi vedere Che cosa sei Sì Cosa Cosa Mi porti Cos'è Un ingegnere È un ingegnere Credo Sì È un ingegnere Amico mio Amico mio Ti prego Entra Sei il benvenuto Sei il benvenuto Fai come fossi A casa tua Ripara Sti cazzo Di robot Coglione Datti una mossa Faccia di cacca Molto bene Ragazzi Dopo questa Questa simpatica Cosa Sta già andando A ripararmi Davvero Sì lo so Pochissime energie Ragazzi Me ne rendo conto Ne sono consapevole Chiudiamo anche questo E per il momento Chiudiamo Pure questo Risparmiamo Un attimo Di energia Se qualcuno Poi qua Gentilmente Mi volesse Concludere Eh ma ho troppe cose Qua da dover costruire Comunque va bene ragazzi Fatemi sapere Quindi cosa ne pensate Pollicini in su Mi raccomando Condividete Se vi fa piacere Vi ricordo La pagina di facebook Che trovate in descrizione Insieme anche a instagram E twitter Giochi come questo Tra l'altro Li potete trovare A un prezzo Veramente conveniente Sul sito di G2A Che trovate anche In descrizione E noi come sempre Ci vediamo Un prossimo video Stati in campana Alla prossima